Si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche all'interno delle carceri nell'occasione di questo straordinario e rivoluzionario giubileo della misericordia. E con la misericordia infinita del Signore, questa mattina il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, ha aperto la Porta Santa della Casa Circondariale di Contrada Balate. Queste porte di misericordia, così come ha voluto il Papa nell'anno del giubileo, proprio dedicato alla misericordia, bisogna effettivamente che vengano aperte in contesti dove la misericordia si esprime in un, direi, modo molto eclatante, vistoso. E qui proprio come anche negli ospedali o in quei contesti dove si vive una condizione di bisogno, la Porta Santa, la Porta della Misericordia, diventa davvero questa porta che se attraversata noi non solo acquisiamo quelle indulgenze, ma addirittura esprimiamo quello che il Signore vorrebbe da noi. Non voglio sacrificio d'olocausti, ma voglio amore, conoscenza, misericordia. Ed è quello che effettivamente vogliamo fare in questa occasione. D'altra parte, io sono dell'avviso che la Porta Santa non è una porta in sé stessa. Gesù già lo dice nel Vangelo, io sono la porta, per cui dato che in Gesù noi riscontriamo, conosciamo i piccoli, tutto quello che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me, allora io capisco che se Gesù è la porta lo sono soprattutto i piccoli, i bisognosi, i malati, i carcerati, e vi è dicendo che loro sono le porte sante. Quindi non una porta nel senso fisico, ma nella metafora biblica sono le persone, le esistenze, i vissuti di quanti vivono un bisogno che nella misura in cui vengono accolti, vengono aiutati, vengono sostenuti, noi attraversiamo la Porta Santa. Un momento di speranza, un momento di comunione per tutti noi, sia i detenuti che vivono questo loro momento di rigidità e di sicurezza e di ovviamente sconto della loro pena per quello che hanno fatto, sia per tutto il personale che è comunque impegnato nella garanzia della sicurezza e nel rispetto della dignità della persona. La maggior ragione è in questo momento storico in cui siamo tutti presi dalla frenesia di questi giorni e soprattutto forse coinvolti in quello che sta accadendo sia da un punto di vista dei fenomeni migratori sia da un punto di vista dei fenomeni della devianza.